In una lettera scritta in data 9 agosto del 1912 al padre Agostino da San Marco in Lamis, padre Pio scrive le seguenti parole. Sì, l'anima mia è ferita di amore per Gesù. Sono infermo di amore. Provo continuamente l'amara pena di quell'aratore che brucia e non consuma. Suggeritemi, se potete, il rimedio per l'attuale stato dell'anima mia. Ecco una languida figura di ciò che Gesù opera in me a guisa, che è un torrente trascina seco nella profondità dei mari tutto ciò che incontra sul suo corso. Così, nell'anima mia, che si è sprofondata nell'oceano senza rive dell'amore di Gesù, senza alcun mio merito e senza potermene rendere ragione, attira dietro di sé tutti i suoi tesori. Ma padre mio, mentre io scrivo dove vola il mio pensiero, al bel giorno della mia ordinazione, domani festa di San Lorenzo, eppure il giorno della mia festa, ho già incominciato a provare di nuovo il gaudio di quel giorno sacro per me. Fin da stamattina ho incominciato a gustare il paradiso. E che sarà quando lo gusteremo eternamente? Vado paragonando la pace del cuore che sentii in quel giorno con la pace del cuore che incomincio a provare fin dalla vigilia. E non ci trovo nulla di diverso. Il giorno di San Lorenzo fu il giorno in cui trovai il cuore più acceso di amore per Gesù. Quanto fui felice, quanto godei quel giorno. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima! Grazie per aver guardato il video!